Inoltre 260 lingue, dà la possibilità a tutti di inserirne di nuove e di modificare quelle esistenti. In lingua italiana ogni mese vengono prodotte 10.000 voci, 300 al giorno. Chemello è uno dei guardiani di Wikipedia. Abbiamo la possibilità di cancellare le voci ed eventualmente bloccare degli utenti particolarmente aggressivi. La comunità di Wikipedia si autoregola in realtà, quindi si automodera. Non siamo moderatori ma semplicemente non diamo la possibilità a tutti di cancellare le voci, però tutti possono aggiungere le voci liberamente. In tutti questi anni lei ha dei numeri su Wikipedia, sia di voci scritte sia molte quelle corrette. Ho scritto fino adesso circa 400 voci su argomenti molto diversi e ho corretto però molte più voci perché passo molto tempo a correggere le voci e ho corretto circa 50.000 voci fino adesso. L'architetto Vicentino, consulente di enti culturali, sarà a Venezia a Cabembo per festeggiare i 15 anni di Wikipedia. All'interno dell'Università di Ca' Foscari, quindi ospiti, e parliamo dell'uso di Wikipedia nella didattica, in particolare all'Università.